Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Orco Verde In questo video vi farò vedere un glitch bestiale per baggarsi sotto la mappa Potete entrare addirittura sotto la strada, quindi rimanere solo la testa fuori Una cosa veramente fenomenale questo glitch E adesso ragazzi vi mostro la locazione Allora, dovete recatere in questa locazione, ovvero dove c'è l'autostrada Una volta che siete recati in questo posto, precisamente, dovete semplicemente col vostro personaggio andare dove sto andando io Precisamente dove c'è questa specie di punticello che dirige sotto un'altra strada Voi dovete semplicemente correre col vostro personaggio qua sotto, dove sto andando io Semplicemente correre qua ragazzi Come noterete, praticamente, vi farà oltrepassare il muro che sarà baggato E voi, praticamente, sarete sotto il ponte Cioè sarete baggati sotto il ponte, quindi sotto strada E quindi a questo punto potete killare la gente Potete, diciamo, trollare anche la gente Perché la gente che passa qua potrebbe morire Perché non vi vedrà, perché voi avete solamente la testa fuori Inoltre, ragazzi, voi potete sparare con tutte le armi Bazooka, bombe, minigun anche Quindi, ragazzi, è un metodo veramente molto, molto fighissimo per trollare la gente in sessioni pubbliche Insomma, per fare tantissime cose Soprattutto per fare strage in sessione E anche ammazzare tutti i poliziotti che volete Perché, ragazzi, io sono riuscito ad arrivare a 5 stelle Stanno in questa posizione, solamente alla testa di fuori Quindi, mi raccomando, ragazzi, se siete bravi a sparare Potrete anche fare strage di poliziotti Senza che vi uccidano anche con 5 stelle Sono solamente gli elicotteri che possono darvi problemi Perché, ragazzi? Perché, praticamente, i poliziotti, come ben sapete Già fanno cagare di loro a sparare E con fucile a pompa, quando sono vicino a voi Ci vogliono 30 anni ora che li ammazzano Figuriamoci, invece, con questo bug E ho anche mostrato nella clip che avevo 5 stelle E non mi ammazzavano per un tot di tempo Quindi, ragazzi, diciamo che sarete tipo immortali Ma non proprio, comunque sia Potete killare chiunque Passi in questa zona E devo dire che in questa zona potrebbe passare anche qualcuno Basta solamente lanciare una mina di prossimità Così, quando qualcuno ci passa sopra, esplode Anche se la maggior parte delle volte sono i civili Questo, ragazzi, non è un wallbridge Ma è di più, ragazzi È di più Ve lo consiglio da fare Se non sapete cosa fare in sessione pubblica Così che potete trollare la gente E quindi non sarete immortali Come nel wallbridge Vi potranno uccidere Se sparano, praticamente, sulla vostra testa Morirete Però, comunque, sia, ripeto Che è una glitch bestiale Per, diciamo, passare un po' del tempo E fare strage nella sessione Quindi, niente, ragazzi Non so se questo glitch O questo bug Funziona per tutte le console Se volete potete testarlo Su Old Gen O per PS3 Xbox 360 E scrivete fra i commenti Se funziona anche sul 2 Gen Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto Lasciate un like Un commento Iscrivetevi al canale Se volete passate La mia credo al cover Trovete il link in descrizione Per giocare insieme Inoltre, se volete aggiungermi I miei video O la MPS4 E la cover Sempre iscritto in descrizione E da all cover Di tutto Noi ci vediamo Al prossimo video Bella Ciao 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 Ciao